Voglio solamente giustizia e basta. Giustizia. Sono la sorella di Merra Benedetta. Di chi? Merra Benedetta. Cosa chiede lì? Giustizia. Sono la giustizia. Quanti anni avevano fatto? 52. Cosa pensa dall'incontro? Stanno a metà strada. Stanno indagando? Stanno indagando. Sì, sì. Ci stanno aiutando. Oggi un anno siete stati sul posto per casa? Sì, sì. Sono andata io sul posto. Cosa ricorda di quel giovane? È tragica la situazione. Mi dispiace e basta. Aveva dei figli? Due figli maschi. Due giovani. Distrutti. Tutta la famiglia. Solamente giustizia. Cosa pensi che hai detto se è fatta lì? Non me la sento a passare. tutti. Nลaging. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.